Ciao, ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben ritrovate o benvenuti e benvenute. Oggi ci troviamo nella camera hobby. Perché ci troviamo nella camera hobby? Perché parliamo di hobby manuali, ovvero la ERI ha ricominciato a lavorare a maglia. Allora, innanzitutto vi volevo ringraziare perché intanti mi avete scritto, per chiedermi come stavo, fortunatamente al terzo tampone sono risultata negativa, anche se, come potrete ben sentire dalla voce, ho tutto questo raffreddore, questo intasamento e la cosa più brutta è che mi è sparito il gusto, oltre che all'olfatto, quindi al momento non riuscirò a fare i video dei profumi perché non sento assolutamente nulla, ma la cosa più brutta è che mi è sparito proprio il gusto e è bruttissimo, cioè probabilmente riuscirò anche a dimagrire perché non si prova piacere a mangiare senza sentire il gusto e quindi mangio poco. E va bene, di questo sono molto contenta. Va bene, ovviamente sono positiva anche se negativa, ma tutto qua. Per il resto sto abbastanza bene, mi sento un po' debole, un po' stanca a fare le cose e quando faccio le scale sudo tantissimo e la dottoressa mi ha detto che appunto è un po' una conseguenza oltre alle scalmane della menopausa è proprio un po' una conseguenza di questo virus e va bene, pian piano ritorneremo alla normalità. Bene, siamo nella camera hobby perché, 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 perché in questi giorni di isolamento forzato la Eli ha ricominciato a lavorare a maglia. Sapete bene che ho smesso l'inverno scorso non perché io non avessi più voglia, perché non mi piaceva più lavorare a maglia, perché siccome io sono una che cambia hobby ogni 3x2 avevo cambiato un'altra volta, no assolutamente, anche perché se andate a riguardare i video con il quale è iniziato un po' questo canale, io avevo anche un po' spiegato il perché avessi iniziato a lavorare a maglia e quali erano comunque i grossi benefici che avevo trovato in questo hobby e che trovo tuttora. Ma perché purtroppo per un problema alla spalla non riuscivo più, era proprio troppo doloroso. Poi grazie a degli integratori, perché non ho fatto nient'altro, grazie probabilmente anche al fatto che ho fatto un po' di ginnastica, mi sono mosso un po' di più, il dolore alla spalla è completamente sparito e il caldo dell'estate se n'è andato, perché in estate comunque per me è veramente faticoso soprattutto l'estate scorsa e quindi ho finito due lavoretti che avevo iniziato. Ho già programmato un altro lavoro e ne ho iniziato un altro molto semplice. Tutte cose molto semplici, sapete che io non sono un'esperta, sono un'appassionata magari vi racconto anche delle castronerie, copio esclusivamente cioè copio nel senso che acquisto i modelli, copio dai modelli non faccio di mia iniziativa come tantissime e bravissime youtuber che ci sono sul tubo e anche come la mia mamma che non ha mai seguito un modello ma lei andava a ispirazione io questa cosa non sono capace di farla, riesco a farla magari con il cucito ma con la maglia ancora no ma mi va anche bene così perché ci sono tantissimi pattern stupendi che mi danno la possibilità di spaziare ovunque io voglia andare. Allora, primo modellino che io ho finito è questa cuffiettina che appena l'ho vista mi è piaciuta tantissimo ed è delle bravissime sorelle che fa, aspettate che non ci vedo, è come al solito anche qui come con la Cosmesi, è Gevedine Gut Fabia e Alessia Taverna che sono in arte le Knitting for Breakfast io le adoro, ho praticamente acquistato quasi tutti i loro pattern se non quelli più difficili perché non ci sono ancora arrivata questo è il modellino originale, stupendo anche nel colore originale che loro hanno scelto perché ricorda davvero il colore mielato, caldo del miele e infatti questa cuffietta si chiama Honey Hat è veramente veramente stupenda questa io l'ho iniziata un bel po' di tempo fa e poi l'ho interrotta perché non riuscivo più a lavorare quando l'ho ripresa non mi ricordavo più dove ero arrivata per fortuna nella mia lungimiranza ero arrivata praticamente per iniziare la parte della corona finale qua quindi ho calcolato i punti che avevo, sono riuscita a finirla in questi giorni è caldissima e per l'inverno che verrà sarà perfetto perché nel nuovo posto dove siamo andati a lavorare non abbiamo neanche il riscaldamento ma non perché, cioè non che non l'abbiamo acceso non l'abbiamo nel senso che non hanno collegato i tubi quindi ci sarà probabilmente un po' da aspettare e congeleremo e io ho ben pensato di finirmi questa splendida cuffiettina la indosso, la volete vedere? mi piace un botto mi piace tantissimo poi anche se non sto bene a me non mi interessa l'importante che mi tenga la testuccia calda va bene con la mia fantastica capigliatura mi piace, mi piace davvero tanto sono contentissima di averla finita sono contenta del risultato non è stato facilissimo perché è tutta una questione di intrecci davanti e di intrecci dietro e io non avevo mai fatto un intreccio o almeno non l'avevo mai fatto ultimamente l'avevo fatto quando avevo 14-15 anni ma chi si ricorda più poi sempre sotto la supervisione della mia mamma e quindi qui la supervisione della rinella non c'è stata e sono andata di testa mia sono riuscita a farla non penso di avere fatto neanche un errore non penso perché ho lavorato con calma con tranquillità e mi è proprio piaciuto ci sono un sacco di peletti che non so se sono i peletti di codi nonostante io abbia lavato la cuffietta o se è proprio il filato e comunque sono veramente veramente soddisfatta allora per questo cappellino io ho usato 35 grammi di questo filato che avevo comprato su Ice Yarn l'etichetta come sapete non è delle migliori l'unica cosa che sono riuscita a leggere è che il 70% è pura lana e il 30% è acrilico superiore quindi va bene per la cuffia anche perché sapete benissimo che io non lavo nulla a mano come non lavo i piatti non lavo neanche i capi delicati a mano quindi lavo tutto in lavatrice con il programma delicato per la lana non mi è mai successo assolutamente niente i capi sono sempre venuti benissimo e ho proprio l'esigenza di avere dei capi da buttare in lavatrice per andare in ufficio perché poi si cambia spesso la cuffia e così quindi direi che è un filato perfetto molto molto morbido non pizzica io non sono una con le fisime ma veramente non pizzica è molto morbido poi è uno dei miei colori preferiti cioè color petroglio questo o... sì penso sia color petroglio ottagno, ottagno petroglio è la stessa cosa non lo so comunque davvero mi piace tantissimo e sono orgogliosa di averla fatta vi stavo dicendo che la matassa e il gomitolone è da 50 grammi io ne ho usati 35 e questo è quello che mi è avanzato di questo filato ne ho ancora non ricordo se 9 gomitoli perché era un lotto da da 10 gomitoli che avevo comprato più di 3 anni fa o 2 anni fa e l'avevo pagato 14 euro più o meno e... e quindi niente questo è il filato non c'è più su Ice Yarn sono andata a controllare e questo è il rimasuglio e con questo colore ci vorrei fare davvero altre cose ah ecco adesso farò anche le schede su Raverly se vi interessa e questi pattern li trovate a pagamento su Raverly ma i pattern delle Knitting for Breakfast sono davvero molto molto economici quindi se siete alle prime armi come me e volete degli schemi dei pattern delle ricette belle spiegate bene alcune abbastanza semplici e in italiano ovviamente potete andare a vedere la loro pagina poi vi metto comunque tutti i riferimenti qui sotto nell'info box e questo è il primo lavoretto finito secondo lavoretto finito lavoretto non proprio lavoretto però questo vediamo magari qui c'è un po' più indietro lo vedete meglio allora avendo io problemi di caldo freddo di solito le braccia le ho sempre abbastanza calde quindi non ho bisogno di essere scaldata ma sulle spalle ho bisogno di avere caldo ho pensato di farmi qualche modellino degli smanicati come li chiama la Valentina Cosciani questo è un suo modello mi è piaciuto tantissimo farlo si chiama diverso perché si chiama diverso perché come potete notare magari voi non lo vedete tanto da lì ma da questo lato ci sono una serie di aumenti nel lato opposto invece la maglia sale completamente diritta e ovviamente poi qui sullo scollo sulla manica la manica qua scende come vedete diciamo il collo comincia qui ha una chiusura più lunga proprio data dagli aumenti fatti con la manichina il pezzettino della manichina attaccato mentre qui ovviamente la cucitura rimane molto più stretta che scende sulla manica non avendo aumenti né sullo sprone davanti né sullo sprone dietro potete tranquillamente scegliere se metterlo da questa parte o se metterlo da questa parte in base a come volete voi mi piace tantissimo la lana è morbida per questo capo io ho utilizzato 5 gomitoli interi da 50 grammi più un mezzo gomitolo di che lana di questa alpaca natural alpaca o alpaca della lana di biella mi è piaciuta molto è un filato morbido è un filato economico davvero molto economico un filato secondo me adatto a quei capi che vuoi buttare in lavatrice ogni 3 o 4 giorni che ne so li lavi perché li metti spesso perché li vuoi rinfrescare io con i filati di lana di biella non ho mai avuto nessun tipo di problema e mi piacciono proprio perché sono veramente molto versatili non è un filato super diciamo così super eccesso come qualità perché abbiamo un 25% di alpaca un 30% di lana e un 45% di acrilico ma vi vi garantisco che è morbidissimo davvero morbido io ho messo soltanto in forma il maglione non l'ho non l'ho stirato però mi è piaciuto tantissimo lavorare questo filato mi è piaciuto tanto 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 questo modello aspettate che mi avvicino i modelli della Valentina mi piacciono sempre tanto perché sono accuratamente spiegati davvero molto molto bene non c'è bisogno di chiedere informazioni rendetevi conto che state parlando con una che il modello manco lo legge dall'inizio alla fine io sono fatta così prendo vedo il modello mi piace ok in italiano non mi sembra difficile e man mano lo leggo poi magari ci saranno delle sorprese questo l'ho lavorato con un con un ferro del 4,5 mi pare sì che è quello comunque indicato anche da Valentina se non ricordo male no ecco sbagliato io l'ho lavorato allora io l'ho lavorato con un ferro del 4,5 perché facendo il campione mi risultava giusto con il ferro del 4,5 alla fine mi è risultato perfetto proprio indossato è davvero è davvero perfetto e ho usato una taglia aspettate che ve lo dico una M ho usato una taglia M è giusto arriva praticamente leggermente sotto la vita ma non lo volevo più lungo mi piace davvero tanto che cosa ho imparato da questo modello ho imparato la chiusura a tre aghi che devo dire è venuta abbastanza bene spero che voi la vediate o comunque i punti combaciano ecco ho usato la chiusura a tre aghi come consigliato dal modello sia da questa parte che da questa parte mi è piaciuto tanto perché ho fatto le coste ritorte e sono bellissime cioè sono sempre veramente molto molto più definite e penso che lo userò lo userò sempre perché vedete anche sul bordo sono davvero molto molto definite molto precise bello 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 che altro ho imparato ho imparato che un modello non va mai lasciato a metà primo perché non ti ricordi dove sei arrivata perché tu pensi di riprenderlo il giorno dopo dopo due giorni non lo riprendi più e secondo perché ovviamente la mano nel lavorarla ne risente e secondo me si vede perché fino a metà io l'ho fatto prima dell'estate e da metà in su l'ho fatto adesso sempre di seguito e la mano secondo me è molto più precisa ed è molto più bella questo è il modello originale di Valentina il modello si chiama diverso mi è piaciuto proprio proprio tanto ah ecco poi vi volevo consigliare questi li avevo comprati veramente quasi l'anno scorso presumo ma secondo me sono una cosa strepitosa per non dire una parolaccia sono dei cavetti di silicone si chiamano si chiamano vediamo se dietro perché qua c'è The Knitting Barber ma non so se è il loro nome è un dice TKB Cords ce n'è uno da un metro e mezzo e due da 75 cm non sono indispensabili è chiaramente ma cosa servono a mettere in sospeso i punti quando dovete dividere il maglione nel giro manica o quando dovete tenere delle maglie in sospeso questi cavetti hanno non so se si riesce a vedere un piccolo buchettino che voi infilate sulla punta del lago del ferro una maglia e fate sfilare i punti senza nessun tipo di problema poi sono abbastanza resistenti Mattia ovviamente tirando 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 mentre stava facendo i suoi lavori ne ha spaccato uno però insomma è plastica è silicone cioè non è che si può tirare se si è delicati in una maniera delicati o comunque se si tira in una maniera normale non si spaccano e per me sono davvero comodissimi perché non devi stare lì sul filo in sospeso poi rimetti dentro l'ago poi sbaglia track si mettono su questi cosi poi si spostano quando dobbiamo riprendere il lavoro secondo me è veramente un aiuto in più per le knitters in erba come me adesso ripongo tutto nella mia scatolina ovviamente sono tutti i filati che io avevo in scorta ma va visto che ho tipo 10 scatoloni di filati in scorta adesso qua la camera hobby voi non la vedete ma ovviamente quando io riprendo in mano gli hobby la camera hobby esplode perché cerco i filati poi cerco i tessuti perché adesso ho fatto anche un corso online di taglie e cuce ragazzi ma ve ne parlerò più avanti ve ne parlerò più avanti perché ho un sacco di progetti ho un sacco di progetti in mente sono troppo gasate e delettrizzate speriamo di non ammalarmi più e quindi qua esplode tutto un gran casino cioè quando entro la gente che passa la gente i miei familiari che passano via dicono ecco ha ricominciato perché si capisce dalla camera hobby che io ho ricominciato a mettere le mani sui filati sulle stoffe va bene va bene quindi secondo modello anche questo ovviamente lo trovate su Raverly dopo vi metto tutte le indicazioni e se poi volete avere delle indicazioni su come è stato il progetto per me farò le schede molto diligentemente su Raverly nel mio profilo poi che cosa ho iniziato la mia amica Claudia BN che ha il canale che si chiama Clevelele e le line Clevelele comunque Claudia BN la trovate poi vi metto anche quello aveva in un ultimo suo video aveva parlato di una borsa fatta a maglia che le era piaciuta e la voleva iniziare e io curiosa come una scimmia sono andata a vedere e la borsa è il modello che si è visto tantissimo in giro perché sono quelle borse giapponesi fatte cioè praticamente a un rettangolo solo e con la cucitura diventa una borsettina ma adesso ve lo faccio vedere e io siccome avevo un filato che secondo me era perfettissimo per questa borsa ho deciso di farlo vedete poi vi metto il link perché io siccome sono molto creativa e non conosco l'inglese ho tradotto la pagina di google e la traduzione devo dire che secondo me è più che accettabile si capisce benissimo e quindi ho iniziato a farla comunque in parole povere non è che sia proprio che sa quale difficoltà fai un rettangolo dove l'altezza è tre volte la base stop e poi si monta e come nel cucito io ne avevo fatta una di cucito scusate ho un peletto della lana sugli occhi ne avevo fatta una di cucito e praticamente siccome è una risorsa gratuita io ve la faccio vedere vedete come c'è la piegatura e poi crea volendo si può creare il manico facendo una lavorazione a maglia o all'uncinetto a parte e poi dopo lo si aggiunge oppure lo si unisce e io lo voglio fare sia con il manico sia senza manico lo voglio fare a legaccio come ho iniziato adesso lo voglio fare a maglia rasata e ho visto un tutorial tutorial di Silvia l'uncinetto d'argento bravissima lei ha fatto lo stesso modello molto simile all'uncinetto quindi quest'anno voglio provarle tutte di quale filato sto parlando sto parlando di questo filato che io ho trovato alla casa del gomitolo che è ormai il mio spacciatore di filati qua vicino a me è una mezz'oretta di strada questo era un filato adatto ad una giacchettina che io ho provato in tutti i modi a fare ma probabilmente io da un'esperta era un tutorial che avevo trovato cioè un tutorial un pattern che avevo trovato in italiano io l'ho rifatto quattro volte quattro volte sbagliavo o il pattern la traduttrice ha sbagliato ma non mi sono messa a scrivere la traduttrice perché non saprei come rapportarmi perché io non capisco niente magari sbaglio io oppure sbagliavo qualcosa io insomma ragazzi però non sono andata avanti e questo filato è il filato secondo me perfetto guardate che bello cioè ha una densità pur essendo morbido e il punto rimane rimane regolarissimo che per me è perfetto che questa borsa io ho due rocche di queste quindi ha voglia cioè qua secondo me escono penso due borse secondo me da questo e altre due borse da quell'altro quindi regali di Natale ho già cominciato a farli anche di questo pattern vi lascio il link e se avete dei problemi nella traduzione fate come me usate Google Translate e traducete dall'inizio alla fine la pagina e si capisce assolutamente benissimo non facciamoci fermare dall'inglese che non è un ostacolo e queste sono le cose che ho iniziato e voi mi direte ma Eli strano non è niente in ballo allora di cose iniziate ho solo quella però siccome mi piacciono gli smanicati siccome fa un caldo pazzesco in questo momento ho deciso di buttarmi in qualcosa di un po' più complesso per me e ho scelto della fantastica Midori Heroes il modello Sata Wall sapete li andiamo sempre ok è questo stupidamente l'ho stampato in bianco e nero perché avevo scelto il monochrome nella stampante ma non cambia molto perché questo modello è un color panna quindi vabbè dà comunque benissimo l'idea non so se c'è un'altra foto completa no comunque ve lo faccio rivedere ha praticamente questa lavorazione traforata sulla sul collo a barchetta possiamo dirlo così ecco fino ad un certo punto ho guardato questo l'ho letto perché mi sembrava un po' più complicato le istruzioni sono uguali per tutte le taglie e poi da praticamente dalle spalle in giù comincia ad avere aumenti diversi è caduto qualcosa ok ad avere aumenti diversi stasera lo comincio che filato ho scelto allora siccome questo è un modello un po' boxy molto arioso molto vaporoso ho scelto qui dice di scegliere un filato va bene qualsiasi tipo di filato sia dal fingering che il worsted il grado di trasparenza della maglia dipende dal peso del filato allora io ho scelto questo filato che mi piace tantissimo e che avevo acquistato se non mi sbaglio anche questo cioè c'è parte delle mie scorte sul sito di Emma Fassio c'era uno sconto e ho acquistato sia l'alpaca che un altro filato di cui non ricordo comunque ho aperto il primo scatolone e ho detto ma perché devo andare a guardare gli altri dieci apriamo il primo se c'è dentro qualcosa che va bene e infatti è andata bene è un'alpaca classic 120 metri in 25 grammi che è questa questo color rosa sì un rosa cipria non so comunque come lo vedete in camera è un rosa cipria e stasera voglio provare appunto vediamo se aspettate che allora è 57 alpaca e 43 cotone quindi è morbidissimo mamma che buono bellissimo bello morbido lo voglio fare appunto bello vaporoso adesso vedo qua diceco i ferri del 6 e poi si diminuisce i ferri del 5 per il bordo vediamo come verrà e ho voglia di iniziare qualcosa di nuovo attenzione non è che io adesso non abbiate paura che io poi non mi dedico più ai miei cosmetici a darvi le recensioni a dirvi quello che penso sulle cose che provo a fare l'isvota spesa no 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 rientra tutto nel pacchetto creativo e lì disordine creativo questo è il pacchetto completo ci saranno un po' di video vari così uno magari se non gli interessa la maglia guarda solo la Cosmesi chi non gli interessa la Cosmesi guarda la maglia chi non gli interessa nella maglia nella Cosmesi guarderà i libri a chi non gli interessa niente cambia canale giusto siamo liberi a questo mondo e niente e questo è il nuovo progetto che inizierò ma Eliti volevi fermare ma no siccome ho un po' di rimasugli di lane e voglio fare qualche cappellino scusate ho pensato di cercare un modellino semplice ma carino per poter iniziare a fare il non so come si dice vediamo fa madonna io non so aspettate per fare il lavoro ad intarsio fire eye avete capito comunque questo è il modello che ho scelto che facciamo prima ecco la mia mano chiamava jacquard so che non si dice più jacquard ma fa niente jacquard jacquard non è jacquard è un altro modo pollice in giù pollice in giù perché Eliti sta facendo di quelle figure assurde della mia amica carissima Anna Rita Cerretti in arte Nina Lu io amo tutti i suoi modelli sono tutti bellissimi lei spiega benissimo ho iniziato anche un corso con lei poi purtroppo l'ho interrotto perché il mercoledì avevo la corale in parrocchia lei lo faceva il mercoledì però se siete delle zone informatevi perché Anna Rita è davvero bravissima a insegnare è stata lei ad insegnare a lavorare a maglia al mattia in maniera più tecnica perché è venuto anche lui a fare il corso quando l'avevamo iniziato e per me è una bellissima persona l'ho conosciuta è una bellissima persona è una bravissima insegnante quindi se volete anche lì dei capi belli scritti in italiano oltre che anche in inglese però se cercate dei modelli ben fatti ben spiegati in italiano vi consiglio anche lei Anna Rita è davvero una splendida persona ed è una bravissima designer quindi questo sarà il mio prossimo progetto di cui non ho scelto nessun tipo di filato e poi mi sono buttata mi sono buttata perché l'altro filato che ho comprato uguale a quello della Rowan è un po' meno pelosetto ed è perfetto secondo me per questo scialle che si chiama Rosewater ed è di Janina Caglio è uno scialle etereo ed elegante a forma di mezzaluna con una base a legaccio quindi semplice e un bordo di pizzo formato da occhielli e di maglie cadute e già qua non li ho mai fatti ma va bene ci penseremo al momento di quando lo inizierò e ho già finito ragazzi va bene sono contenta di essere ritornata con le mani che lavorano ma si dai vi racconto che ho comprato un corso online perché durante questo isolamento ragazzi ok letto letto poi mi veniva sempre mal di testa quindi ho dovuto smettere poi ho lavorato un po' a maglia poi mi alzavo uscivo sul terrazzo per rientravo però alla fine ero nella mia camera camera hobby camera mia camera hobby e ho scelto seguo delle ragazze che fanno taglio e cucito anche a livello abbastanza professionale su youtube una di queste è la dulzatina non so se voi la conoscete è una bravissima ragazza milanese che adesso è data abitare in Brianza e che ha iniziato per passione e poi ha fatto diventare la sua passione una professione ho acquistato questo corso sulla taglia e cuci che è fatto benissimo davvero davvero benissimo divinamente ho scoperto tantissimi trucchetti io sono capace di usare la taglia e cuci ma un po' alla carlona come si dice qui da noi cioè ok e alcune accortezze non non le sapevo non le avevo scoperte guardando questo questo video mi sono accorta che davvero alcuni particolari fanno la differenza e ho già lì pronto un modello tagliato che devo provare a cucire con l'indicazione di Martina che è questa ragazza appunto che come nome d'arte è la dussatina e vi devo dire che se siete in cerca di un corso ben fatto ben spiegato con tantissime nozioni anche pratiche che tu vedi tantissimi trucchetti che lei insegna e o non avete mai usato la taglia e cuci o la sapete usare alla carlona come me io ve lo consiglio davvero davvero tanto perché per me è fatto benissimo e ripeto io non sono un'esperta sono un'appassionata quindi se vi dico che secondo me si può imparare a cucire con questo corso con la taglia e cuci secondo me si può si può imparare poi certo non è che uno guarda il video e dopo due secondi è capace bisogna provarci riprovarci sbagliare perché sbagliando si impara e lo sappiamo benissimo se non sbagliamo non impariamo e non riusciamo a correggere l'errore con il quale abbiamo sbagliato sono filosofica lo so e quindi vabbè io vi lascio tutti i riferimenti come al solito faccio un minestrone ma io sono così la mia mente creativa ha spazio a destra a sinistra e da tutte le parti e quindi prendetemi così come sono va bene ragazzi ho già parlato a sufficienza doveva essere un video breve e come al solito cicciaro ma spero di aver rifatto un po' di compagnia di aver rifatto venire voglia così di sperimentare con i ferri di provare di finire quello che avete magari iniziato da un po' di tempo la maglia per me è davvero come vi dicevo è terapeutica e curativa e adesso soprattutto che alla sera comincia il fresco non si esce c'è qualche bel film alla televisione qualche serie autunnale che ci piace o ascoltando i podcast delle amiche sia di cosmesi che di maglia che di uncinetto che di viaggi di quello che volete voi di quello che vi piace sferruzzare fa bene alla mente al cuore e all'anima ricordatevelo io vi abbraccio vi saluto e vi aspetto nel fine settimana con un video di skin care con i preferiti top del momento un bacione e a presto ciao e buono sferruzzo a tutti